Buongiorno a tutti, siamo qui in diretta da Desirn per affrontare un argomento importante sull'infedeltà. Abbiamo qui con noi ospite Sasha che si è recata a me molto disperata stamattina. Non ho capito di che cosa si tratta, adesso ci spiegherà lei. Io ho molto disperato, non vedete tristezza nel mio volto, io essere venuta in Italia per cercare l'uomo di mia vita, io ho trovato l'uomo di mia vita, ma lui è come dire, come dite voi, con un piede in fossa, quasi con un piede in fossa, però io amare tanto questo uomo che io volerei sposare lui, ma lui purtroppo visto di me ha letto con un altro uomo. Sasha, ma non me l'avevi spiegata così la cosa, cosa è combinato? Ma io non essere stata colpa di me, lui essere scapitato mentre io pulivo camera da letto, lui come dire, come dite voi, giardiniere molto molto carino, chiedeva aiuto di me e io non ho potuto dire di no. No, noi avere, come dire, come dite voi, relazione extraconiugale, cioè in parole povere, in Italia non essere cosa normale. Allora, no, ora ti spiego io Sasha, prima che ti metto mano destra e mano sinistra, cosa? No, niente, tutt'è, 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 tutt'è tu, tutt'è, 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 tutt'è. facile, se ne è andata a letto con il giardiniero e bocchiange che il compagno con un piede dentro la fossa, disabile e inabile, che ha rotto le scatole per trovarlo che la vuole lasciare, e te la lascio ma tu da che parte di stare io non capisco Sasha, tu tenere le zecche tanta l'uno ma cosa disse le zecche? furbizia, furbizecche furbizia io non capisco questa donna italiana tu di dove? comunque io amo di tanto il mio uomo, vuoi aiutare me? uomo disabile, inabile, sin da me sei fatta bu? niente Sasha lasciamo tacet, tacet, che vuol dire debba praticamente questa ragazza con questo finto pianto vuole recuperare un rapporto che se questo tuo uomo ti lascia facciamo che pensate io trovare un altro volontario un altro volontario di me tu grande uomo d'italia chiama Sasha allora si chiama chiama Sasha grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori